Il Comune di Pescara ha pubblicato il nuovo bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che scadrà il prossimo 6 ottobre. I moduli saranno disponibili sia online che presso l'ufficio relazioni con il pubblico, l'ufficio politica della casa agli ingressi del Comune. Noi nel momento in cui abbiamo la disponibilità di alloggi ATER o comunque comunali provvediamo alle assegnazioni così come questa mattina si sta regolarmente facendo negli uffici del Comune gestione politica della casa perché si stanno assegnando delle case che si sono rese disponibili e quindi in base alla graduatoria che è in corso e che lo resterà fin quando non diventerà operativa quella che si è appena aperta noi continueremo tranquillamente ad assegnare case sul territorio ovviamente comunale o comunque di proprietà che abbiamo tra ATER e Comune di Pescara. Una corsia preferenziale sarà riservata alle famiglie che all'interno del proprio nucleo vedono la presenza di un disabile mentre come prevede la nuova legge regionale non saranno ammessi in graduatoria coloro che hanno un casellario giudiziario non in regola negli ultimi 10 anni o coloro che negli ultimi 5 anni hanno riportato denunce penali per occupazioni abusive. Il bando resterà aperto per 60 giorni e dovrà essere ripetuto sia da coloro che già hanno partecipato al bando che è attualmente in corso perché ovviamente la documentazione va aggiornata sia da tutti coloro che ovviamente ritengono di poter usufruire o comunque di avere necessità di un alloggio pubblico. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono 4.500-800 quelli di proprietà del Comune di Pescara. Tra i requisiti per poter accedere al bando c'è quello del reddito ISEE che non può superare i 15.853 euro l'anno. Per partecipare ovviamente non bisogna avere la titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione in altri alloggi adeguati alle esigenze del proprio nucleo familiare.